SONDARE L'ANIMO UMANO Una pietra rara al punto da liberare i peggiori istinti. Una pietra capace di scatenare guerre. Le mani di chi l'ha toccata sono ancora sporche di sangue. Allora cosa sei? Un contrabandiere? Un giornalista. Vuoi rubare il diamante? Quel diamante è il mio lasciapassare. Se sei ancora vivo è solo perché non hai detto a nessuno dove si trova. Dammelo. Ci dirai dov'è nascosto? Non lo troverà mai, signore. Impediteli di fugire. Dov'è il mio figlio? Stigli dov'è? Stiglialo! La mia famiglia, la mia casa, ho perso tutto! A volte mi chiedo se Dio potrà mai perdonarci per ciò che abbiamo fatto l'uno all'altro. Poi capisco che Dio se n'è andato da qui tanto tempo fa. Non lo trovié. Grazie a tutti.